Non residenza, Riva del Garda. Di assurdo. No, che volevamo essere qualcosa e non siamo mai riusciti. Quindi non si tratta di una produzione interattiva solo a livello di E, ma come Work in Progress vogliamo sapere tutti i vostri feedback. Siamo 6. Siamo 6. Questa è una frighina. Ma facciamo una pubblicità di questi codi. Pistacchi salati. Buoni. Analergici. Ipocalorici. Ipocalorici. No. Aiuto! Una donna che vuole abusare di me! Devi dire... Non residenza, Riva del Garda. Non residenza, Riva del Garda. Non residenza, Riva del Garda.